Questa brava ragazza gioca a calcio Io fa il ruolo Quaschi, tu sei? Una mezza sega, no, qui si va detto, scusate perché No, poi dici uno gioca a calcio No, io aspirerei Il stello destro, l'hanno detto Aspirerei, aspirerei Cioè io mi metto lì sulla fascia la occupo In maniera a volte inruente, a volte anche più ordinata Però è bellissimo giocare a pallone, è bellissimo È bellissimo giocare a pallone Tu in questo decalo che hai detto che la brava ragazza non gioca a pallone Ma tu stasera? Io sono venuta accompagnata da tantissime brave ragazze Tantissime brave ragazze, vogliamo chiamarle Vediamo chi sono La commissaria tecnica della Nazionale Femminile di Calcio Milena Tantorini Elisa Bartoli, capitana della Roma Difensora della Nazionale Manuela Giuliano, centrocampista Sia della Roma che della Nazionale E l'arbitra del settore calcistico giovanile Giulio Ricastro Dai! Ah no, ci vogliono delle panchine Assolutamente Benvenute Che bello Hai visto? Oh, intanto benvenuta Allora, guarda, ho fatto vedere le panchine perché nel divano non c'entravamo tutte Dai! Noi ci sediamo solo perché l'opposizione è scusurata Qua si è abituata alla panchina Beh, no Tu vieni, allora mettiamo Lei là Vado? Come sono i ruoli? Io mi festisco con Emanuele Delisa Allora, intanto benvenute Un applauso ancora Che gioia, era tanto Era bello Allora, io voglio parlare subito Tu mi devi dare una mano perché naturalmente sono Sono a disposizione Negata Ho raccolto dai giornali, dalle cose eccetera Una serie dei insulti nei confronti Calciatrici donne che fanno paura Non li vorrei manco dire Però insomma, proprio roba Capito? Le donne che giocano a calcio sono brutte, scarse e mascoline Le donne non devono parlare di calcio perché non sono adatte Dette anche da persone alto locale La lobby gay comanda il calcio femminile Voi naturalmente a questi insulti rispondete con i risultati E vogliamo parlare intanto Allora, intanto stiamo facendo delle qualificazioni per gli europei Beh, incrociamo le dita perché siamo solo all'inizio Stiamo iniziando un nuovo percorso di qualificazione agli europei Che insomma è un percorso tosto Però le ragazze come sempre sono state eccezionali finora E finora le hanno vinte tutte Le hanno vinte tutte? Finora sì Stai stessa al girone Poi facciamo rispondi tutti Milena, no, ti volevo chiedere Allora, quest'estate finalmente Si sono infiammati i cuori Finalmente il mondo italiano si è accorto che esiste il calcio femminile Perché sono stati seguiti addirittura in televisione Capito? Una cosa Ma la strada è molto lunga La strada è lunghissima Diciamo che noi c'eravamo anche prima del mondiale Ci siamo sempre state Però è chiaro che andare al mondiale dopo vent'anni Poi probabilmente nel momento in cui non ci sono andati i maschi Per noi è stato un aspetto estremamente positivo E poi le ragazze hanno fatto vedere quanto sono brave a giocare a calcio Quindi al di là dei risultati Al di là di quello che loro fanno vedere Quello che loro trasmettono Ma soprattutto la sostanza Sono ragazze che sanno giocare a calcio Hanno qualità, tecniche tattiche E soprattutto Perché hanno fatto innamorare gli italiani? Io credo che abbiano fatto innamorare gli italiani Perché hanno fatto vedere che un altro calcio è possibile Un altro calcio è possibile E' anche interessante la mentalità La sportività con cui loro a volte a questi insulti A questo sessismo imperante Rispondono veramente con ironia e sorriso E questo secondo me è molto vincente Sì, noi siamo abituati a questo Perché veniamo da anni di forti pregiudizi E quindi, insomma, ormai un po' ci scivolano addosso Perché sì, perché loro sono molto concentrate Sulla passione per quello che fanno Sul piacere di giocare Il bello E per loro quello è quello che importa E credo Poi non so, magari lo diranno loro Elisa Bartoli subito, glielo chiediamo Allora, capitana della Roma E difensora della Nazionale Tu hai fatto una dichiarazione che mi ha colpito Che hai dichiarato Io sono un atleta Anche se per ragioni indipendenti da me Non sono una professionista Per questo ho detto Che non mi sento una calciatrice Come? Con tutti i risultati? Sì, perché alla fine Questo è uno sport che amiamo E che con passione portiamo avanti Nonostante tutte le difficoltà che abbiamo avuto Fin da piccole Quindi io ho iniziato con i maschietti Quindi ne ho viste tante Possono dire questo E non mi sento tutta una calciatrice Perché appunto non siamo riconosciute come professioniste Ma oltre a questo perché Vado avanti sempre con la voglia La passione e il cuore Quello che mi porta avanti Che mi trasmette il campo di gioco Tutte le emozioni che mi lascia Quindi credo che continuerò Finché mi darà emozioni e sensazioni bellissime Manuela Quanti anni hai Manuela? 22 22 Centrocampista Sia nella Roma che nella Nazionale Quando siete tornati dai mondiali Il presidente Mattarella vi ha invitato E questo è stato un gesto comunque importante Un segno Addirittura il presidente del CONI Malagò Ha detto scusate il ritardo Questa no? Sono belle parole Però tu sei un po' No? Fumantina giustamente Gian Burrasco È Gian Burrasco lei No? Ecco Insomma Sta cosa ti Di non essere considerata Come Gli atleti Uomini Ma Ribadisco come ha detto Elisa Noi Pratichiamo questo sport Perché lo amiamo Come i nostri colleghi uomini Ad oggi Penso che meritiamo Tanto di più Quello che abbiamo fatto Fino ad oggi È motivo Per il quale Ci svegliamo ogni giorno Con la voglia di andare a fare allenamento Come loro E che speriamo che ogni giorno Ci siano riconosciuti Tanti diritti Insieme a loro Io voglio spiegarlo questo Perché forse Non tutti sanno No? Adesso Cristiana mi aiuta Perché lei Tra l'altro C'è una carica Tu sei Sono il vicepresidente Della serie C Che è la Lega Pro L'ex serie C Vicepresidente È importante Eh no Non ho capito Allora C'è questa disparità Nello sport Ci sono soltanto Quattro discipline sportive Che riconoscono Il professionismo Calcio Ciclismo Golfo E pallacanestro Ma Solo per Gli uomini Le atlete Non sono riconosciute Professioniste In nessuno Sport Anzi Io Scusa Non capisco perché Cioè Non hanno uguali diritti Non hanno le tutele Le stesse tutele previdenziali Assicurative Fiscali degli uomini Se lo sport È la loro attività prevalente Faccio È iniziato un percorso Chiaramente Qualcosa sta cambiando Al professionismo Anche perché Queste ragazze Ragazze mondiali Che poi sono Ragazze quotidiane Perché giocano Costantemente a calcio E lo fanno per mestiere Sono delle ragazze Che hanno aperto il cuore Degli italiani Abbiamo credo Pianto tutti Mentre cantavano l'inno italiano Proprio perché Chi ha visto quello spettacolo Sa la fatica Che hanno fatto Queste ragazze Ad arrivare lì Il percorso è iniziato È un percorso Che deve seguire I tempi del mercato Una serie di passi Propedeutici Il senato ha concesso Le federazioni La facoltà Di riconoscere Il professionismo Esattamente Però ci deve essere Una disponibilità Leggermente più ampia Di quella Chiaramente Di questo emendamento Che comunque è stato Accolto molto bene Da tutte le federazioni Affinché il programma Di avvicinamento Al professionismo Consenta realmente Lo sviluppo del movimento Perché queste ragazze Ci devono arrivare Chiaramente Sapendo che poi Il sistema Si sostiene Detto questo Il calcio femminile Parlando appunto Dello spirito Sia di chi deve normare Ma di chi poi Questo sport lo guarda E lo ama È sicuramente Un movimento Che parte dal basso Perché queste ragazze Hanno aperto il cuore Degli italiani E questo fenomeno Calcio femminile È un fenomeno Che è arrivato Nelle stanze Chiaramente Già il presidente Gravina Ci stava lavorando Però il sistema calcio Ha anche dovuto Prendere atto Di un amore Che l'Italia Ha dimostrato Nei confronti Di queste ragazze E meno male Era ora Anche perché Le leggi Possono fare Però è anche importante Un cambio Di passo Di mentalità Una rivoluzione culturale Voglio chiedere a Giulia Nicastro Guardate Ha scelto di fare L'arbitra Ora vi dico Già è un ruolo difficile No? In assoluto È tosta Quanti anni hai? 21 21 Tu dici Voglio fare l'arbitra Allora A te Di tutte ne succedono So di un episodio Ultimamente No lo racconto Perché questo è un modo Proprio per far cambiare La mentalità Dove tu hai Non neanche ammonito Hai Non so Hai Eccepito Come si dice Io sono ignorantissima Mi dovete E Un giocatore Per protesta Si è tirato giù i pantaloni Ha mimato Vari atti sessuali E io l'ho espulso E lei l'ha espulso No ma la cosa triste Che però la voglio dire Sottolineare Cartellino rosso Assoluto Che i genitori Siccome sono ragazzi giovani Quelli che giovano 14 anni Eccetera Ti davano della prostituta Dagli spalti Ci vuoi coraggio Voglio dire E tu però non hai fatto una piega Hai continuato la tua partita Perché è un fatto culturale Che bisogna tutti un attimo Farsi una domanda Tu hai pensato mai Di gettare la spugna Sta passione No La porti avanti Voglio sentire Dalla tua voce Allora Ho pensato tante volte Di dire Ma chi me lo fa fare a me Sta tanto bene a caso Senza insulti Però la passione è tanta Veramente Non sento la fatica Non sento il freddo Non sento il caldo Non I minuti passano veramente Con una velocità estrema E Penso che tutta questa passione Ti porti a superare qualsiasi cosa Come riesce con loro Riesce anche con me Veramente Io entro in campo Con un sorriso smagliante Perché vedi ragazzi Che amano fare Questo sport Che è bellissimo Secondo me E io amo Giocare con loro Perché alla fine Comunque sono Secondo me Due elementi complementari Perché Si uniscono insieme E creano qualcosa di bellissimo Che ha sempre appassionato tutti E quindi Io continuo E mi fa male Sentirmi dire magari Delle cose per niente carine Però Penso che vedermi ancora lì Dopotutto magari Quello che mi hanno detto Sia una bella risposta Bravissime Allora io ci tenevo tanto Contiamo il pubblico Tutti insieme Nell'ultima puntata A avere Questo bel pezzo D'Italia Che ci fa ben sperare Nel futuro Io penso che Sia aiuti tutti A essere anche Un po' migliori Salutiamole Con un applauso Da stadio E in buon